a fare la prepista della inaugurazione. La faccio con grande piacere perché essendo uno che viene da lontano, forse l'unico titolo è quello di essere un innamorato della mia città, del suo patrimonio culturale, del suo patrimonio artistico ambientale e quindi sono davvero felice di questo grande evento, l'apertura del museo regionale etnografico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.